di fuori salone, quindi parliamo di quel momento che si svolge a Milano, il salone del mobile dal 5 settembre dove per sei giorni appunto verranno esposte tutte le più grandi aziende che operano in questo settore così strategico e così importante per il nostro paese. L'Italia è il primo paese in Europa per il numero di imprese nel settore davanti alla Germania quindi abbiamo veramente dei numeri incredibili solo in Lombardia, tanto per dare uno di questi numeri le nostre imprese sono oltre 14 mila con un giro di affari di 8,7 miliardi di euro e 3 miliardi di euro di scambi con l'estero su un totale di 12 miliardi, quindi è un settore assolutamente strategico e trainante per il nostro paese e in questa ottica lombarda la provincia di Monzebrianza ha un ruolo assolutamente da protagonista per cui insieme all'assessore Longo qualche anno fa avevamo pensato e detto che non potevamo rimanere fuori da questa grandissima manifestazione che si svolgeva nella vicinissima metropoli milanese, quindi abbiamo iniziato questo percorso che è rimasto sospeso l'anno scorso per propri motivi, non si è tenuto.